Volevo ricordare che oggi si festeggiano due settimane per un po' di teore! 100 di metri giorni! 100 di metri giorni! 100 di metri giorni! E' lì! E' lì! E sta lasciaci VA! 1 stop senza D sprayedci Quindi si avete visto i tuoi chemi da GTA. Già! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.